Il sindacato degli infermieri Nursind di Pescara denuncia criticità relative alla situazione del pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo adriatico. L'elevato afflusso di pazienti, dice il sindacato, risulta infatti insostenibile in quanto gli spazi sono inadeguati per il numero di pazienti da trattare ed è impossibile rispettare le distanze di sicurezza. Il pronto soccorso non riesce più a fare il suo lavoro, cioè quello di dare risposte rapide a richieste dei cittadini in quanto si è trasformato, dice il Nursind, in un reparto multidisciplinare che non fa più solo accertamenti e prestazioni di emergenza urgenza. Vista la carenza di posti letto nei reparti del presidio ospedaliero di Pescara dove spiega il sindacato mediamente e giornalmente stazionano 70-90 pazienti, si chiede il potenziamento dei posti letto presso gli ospedali di Popoli e Penne per poter trasferire i pazienti che non riescono a trovare posto all'ospedale Spirito Santo. Adesso che si avvicinano le state ci sarà un grande aumento di afflusso al pronto soccorso e quindi la permanenza nel pronto soccorso di Pescara aumenterà di molto le ore praticamente, i tempi di attesa tra l'entrata e l'uscita possono passare anche diversi giorni e questo provoca naturalmente il ritardo anche nell'erogare prestazioni. Il pronto soccorso dovrebbe erogare prestazioni immediate, brevi, non permanenza all'interno del pronto soccorso, dovrebbe essere stabilizzati e inviati ai reparti, il problema è che nei reparti non ci sono i posti letto, questo è dovuto al fatto che da anni praticamente hanno ridotto i posti letto nei presidi più piccoli, hanno riduzione dei servizi. Una problematica questa che rischia di accentuarsi nel periodo estivo quando notoriamente gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara aumentano ancora? Sì aumentano ancora anche perché verso l'estate si va incontro più a incidenti stradali, quindi incendi in moto, i pazienti arrivano anche da fuori asli di competenza nostra, quindi da Chieti, da Basto, San Salvo e all'interno. Ma il problema principale del pronto soccorso attualmente è quello dell'ingorgo dei pazienti che non riusciamo a ricoverarli nei reparti e quindi il pronto soccorso svolge oltre attività di emergenza urgenza, svolge anche attività di reparto, quindi assistenza dei pazienti che rimangono da noi per giorni.